Buonasera, è il Polemos. Il Polemos avrete capito dalle immagini della sigla, era il caso Welby, una persona capace di intendere e di volere, che aveva manifestato apertamente la sua decisione di interrompere le cure artificiali a cui si era sottoposto. Avrete capito che si parlerà di testamento biologico, di eutanasia, di accanimento terapeutico e il prezzo è testo, è dato da un libro, un bel libro che oggi è venerdì si discuterà a Palazzo di Città, ci sarà un dibattito con gli autori Antonio Del Pennino e Daniele Merlo e poi con anche altri due ospiti che ho voluto anche qui in studio a Telebari, una parte laica e una parte credente, alaica lo stesso, però credente. Cominciamo dall'assessore Tommaso Fiore, assessore alla sanità, dal senatore Antonio Del Pennino che è uno dei due autori di questo libro che dà il titolo al Polemos e che si chiama Di che vita morire, poi abbiamo Peppino Giuseppe, io lo chiamo Peppino perché siamo amici da lunga data, Peppino Maiorano che è un primario ospedaliero del Policlinico di Bari e infine Daniele Merlo, che anche egli è un medico, autore, laurea in fisica e medicina, docente di anatomia, medico volontario in Africa subsahariana, ha approfondito la bioetica del fine vita nella dottrina della Chiesa. Ecco, non c'è una contrapposizione, il titolo del libro, dicevo prima, è Di che vita morire? Nasce da un dialogo, un dialogo che i due autori hanno avuto sulle scelte di fine vita, un politico, Antonio Del Pennino, laico e che ha contribuito, ha cercato insieme ad altri politici di stabilire un ordinamento, una legge su questo tema, ed un medico cattolico. È un confronto, dicevo prima, non una contrapposizione per capire se è possibile in qualche modo riuscire a raggiungere delle soluzioni condivise. Si dice nel libro, non c'è questa contrapposizione scienza, fede, razionalità, sentimento, però in buona sostanza è di questo che si discute. Dicevo prima, è un libro che offre anche delle riflessioni filosofiche, infatti leggo velocemente un po' i titoli di questo libro. All'inizio si parla di legge, etica e pietas, un laico in cattolico a confronto, l'uomo di fronte al destino ultimo, il pensiero dei classici, la speranza cristiana e il pensiero della Chiesa, cosa accade all'estero, la convenzione di Oviedo. Di fronte al mistero c'è un'intervista di Giancarlo Gioielli, che poi è quello che ha curato questo libro, che è un giornalista, vice direttore di Rai International, è autore di reportage in tutto il mondo. Di fronte al mistero dicevo prima, poi c'è la mia speranza e il mio dolore, una testimonianza di Oscar Giannino e infine un contributo del professor Angelo Franzini, che mi sembra Daniele sia stato… Sì, è un collega che oggi è primario di neurochirurgia al BEST. Non fece in tempo a essere approvato dall'Aula, fu approvato solo dalla commissione all'unanimità, io sono da ripeterlo. Si riprese nella legislatura successiva, cioè nella quindicesima, e lì le cose cominciarono a complicarsi, perché su iniziativa della senatrice Vinetti fu introdotto in alcuni testi, compreso quello del Presidente della commissione Tomassini, che non lo conteneva invece nel testo precedente, l'affermazione che idratazione e alimentazione non sono trattamenti che possono essere dichiarati, sospendibili nelle dichiarazioni anticipate o nel testamento biologico. E su questo si aprì uno scontro, la commissione, fra chi, una serie di udienze conoscitive, chi venne a sostenere che non erano trattamenti medici, ma erano trattamenti di sussistenza vitale e chi invece sosteneva che erano trattamenti medici come tale dove potevano essere sospesi su richiesta dell'estensore delle dichiarazioni anticipate. Questo bloccò praticamente la discussione nel corso di quella legislatura che poi, come tutti sanno, fu brevissima perché durò due anni e poi ci furono le elezioni anticipate. Ma perché si bloccò? Perché questo scontro? Noi qui stasera abbiamo diviso gli ospiti fra una parte, a parte che sono tre medici, oltre a Tommaso Fiori, l'assessore della sanità, anche Daniele Merlo e Pepino Maiorano, sono tre medici, mentre Antonio Del Pennino è un politico. Ci sono da una parte i credenti, dall'altra parte i non credenti, però non si è riusciti a raggiungere un'intesa. Non si è riusciti a raggiungere un'intesa in quella legislatura, però il problema rimase sospeso, rimase sospeso perché non si affrontò un testo legislativo, ci si limitò alle udienze conoscitive in cui emersero le diverse posizioni. Con la nuova legislatura il problema si complicò perché intervennero appunto il caso Welby e il caso di Eluana Inglaro, soprattutto il caso di Eluana Inglaro, perché sul caso Welby c'era stata una constatazione che era un uomo, Compos Sui, che era in grado di decidere quali cure sospendere o quali cure continuare e nella fattispecie la cura era la respirazione artificiale, non era né l'idratazione né l'alimentazione ed era consapevole. Invece nel caso di Eluana Inglaro lei non era consapevole e non c'erano dichiarazioni scritte. Però c'era una dichiarazione che poi vedremo in un filmato, fatta al padre c'era una dichiarazione fatta al padre. Sulla base di questo intervenne una pronuncia giurisprudenziale e qui bisogna dare atto a Beppino Inglaro che invece di ricorrere come molti fanno a una eutanasia passiva, cioè una scosta, una sospensione delle cure, volle avere una pronuncia dell'autorità giudiziaria. Una pronuncia dell'autorità giudiziaria. Cioè dicevi, scusa Tommaso, non è tanto il clamore mediatico, il problema è che lui insistette più volte per ottenere una pronuncia giurisprudenziale, questo è il dato importante. Per anni, infatti nel filmato poi si dice. Io a Daniele Merlo e quindi anche agli altri vorrei porre una domanda che mi è venuta spontanea leggendo questo libro e anche delle riflessioni che poi sono state fatte. Dico, se la scienza, la medicina, non avesse raggiunto dei livelli dei risultati capaci di curare e mantenere in vita, a volte, la persona affetta da grave malattia, se non ci fossero stati questi progressi, uno che aveva una malattia, magari non tanto grave, però una malattia grave e non ci fosse stato rimedio da parte della medicina, sarebbe morto tranquillamente e quindi era la volontà di Dio. Allora, cerchiamo di capire il rapporto scienza e fede, cioè la vita della persona appartiene alla persona o appartiene a Dio.